2.238 casi su 27.842 tamponi processati, tasso di positività all'8%. Questo è il dato emerso dal bollettino epidemiologico del 14 febbraio. I casi emersi dal report precedente erano stati 3.898 su 28.467 test con positività al 13,7%. Il totale dei contagi da coronavirus registrati in Puglia sale a 681.474, di cui 96.359 attualmente positivi, 577.676 guariti e 7.439 deceduti. 15 sono i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 719 sono i casi attivi in meno rispetto a ieri, 2.942 i nuovi guariti. Calano da 742 a 741 i pazienti ricoverati in area non critica. Salgono da 59 a 64 le terapie intensive. Su scala provinciale il dato più alto di giornate è rappresentato dai 632 nuovi casi emersi nell'Eccese, 113.433 il totale dei pazienti registrati nell'area salentina da inizio pandemia. 617 sono i nuovi positivi emersi nel Barese, 229.028 il totale dell'area del capoluogo di Regione. 443 sono i nuovi contagi registrati nel Foggiano, un dato che porta il totale a 106.484. 173 sono i nuovi casi emersi sia nella Bat che nel Brindisino, zone nelle quali il totale sale rispettivamente a 68.534 e 63.773. 172 sono infine i nuovi positivi registrati nel Tarantino. 93.025 è il dato complessivo della zona ionica. A chiudere il quadro 20 residenti fuori Regione. 8.324.021 è il totale dei tamponi processati in Puglia da inizio pandemia.